Questa struttura non fa altro che arricchire e valorizzare ancora di più la società sportiva K-Sport Montecchio e questo ci permette di potenziare il nostro settore giovanile già fortemente importante perché abbiamo circa 350-400 ragazzi e con questa struttura potremo sicuramente creare una struttura che vanno proprio a servizio di questi giovani che come dicevo io tempo fa lo sport è una cosa importante per la crescita di un ragazzo. Se la scuola ti può insegnare l'italiano, matematica, inglese e invece per quanto riguarda lo sport ti insegna la crescita di vita, ti comincia a imparare le regole, stare con i compagni, rispettare gli altri compagni magari anche sgomitare per poter farci spazio a una squadra e quindi anche per poter farci spazio un domani nella vita sempre nel rispetto delle regole. E quindi sicuramente questa struttura fatta in questo modo sintetico con l'impianto di illuminazione non va altro che ad aggiungere un valore alla società ma direi anche all'intera comunità del paese che potrà utilizzare questo campo. Questa sera è semplicemente una consegna di un campo che è stato finito, ultimato da parte dell'impresa alla società K Sport Montecchio che è la società di calcio della città di Vallefoglia ed è per noi una soddisfazione davvero straordinaria perché è un campo che ha tribune importanti come quelle del Morciola Sporting, è un campo che ha 100 metri come era richiesto dalle normative, è un campo di ultimissima generazione, quindi è un campo che serve a centinaia di ragazzini, che consente alla società di calcio di competere con altri territori, con altre squadre importanti ed è un luogo abbastanza centrale proprio nella Pisa Urbino, un impianto di forte qualità con un altro impianto alle nostre spalle che è un luogo dove giocano le bocce ma subito dopo c'è un altro campo in terra battuta, quindi una quantità di impianti importanti, questo è l'ultimo, è un importo importante per noi di circa 750 mila euro, però è un investimento sui giovani, sulle famiglie, sul futuro, sulle nuove generazioni e quindi pensiamo che sia veramente una bella giornata per la società di calcio che fa la gestione e ringraziamo la parrocchia che abbiamo realizzato un accordo per oltre 30 anni, 30 anni e poi diciamo un prestigio in più per le squadre di calcio, i gestori, la società di calcio che gestisce questo campo di primo ordine. Sì, i lavori sono ultimati, facciamo la consegna alla società sportiva che da oggi in poi potrà utilizzare l'impianto sportivo rinnovato. È una soddisfazione per noi aver rigenerato questo impianto sportivo e in generale questa zona sportiva. Oltre al polo sportivo di Montecchio, molto importante, dove c'è lo Spadoni e il Palladio Unigi, abbiamo in zona Morciola insomma diverse strutture sportive importanti come il Morciola Sporting, due campi da calcio, di cui questo rinnovato e una palestra. Quindi l'impianto rinnovato è da oggi a disposizione per tutti i ragazzi, in un luogo importante per la socializzazione e quindi non vediamo loro insomma prossimamente, purtroppo in questo momento di difficoltà, di vedere qualche partita fra questi ragazzi anche dalle nove tribune vicine all'impianto del Morciola Sporting.